Ho pescato il jolly, perché se ci riprovo altre mille volte non mi va dentro. Però bene dai, siamo soddisfatti, avevamo voglia di rifarci dalla partita dell'andata che era stata una sconfitta, l'approccio è stato giusto, è stata tutta una bella partita. Però cerchiamo di recuperare perché martedì dobbiamo ragionare, visto che andiamo a incontrare una squadra che gioca 3-5-2, gioca con un sistema che può metterci in difficoltà, fuori casa quando siamo andati con i tre centrocampisti abbiamo retto bene, dobbiamo ragionare su questa cosa qua e fare le dovute scelte in base al fatto che giochiamo altre due partite in pochissimo tempo. La fortuna nostra, ma direi di tutto l'anno, è questo, che comunque è quando manca, non direi titolari, io non voglio parlare di titolari, parlo di persone che vengono impiegate di più, magari un po' più esperte, ma come vediamo Coldromatz, chiamato, il momento giusto risponde sempre in maniera positivissima, non solo lui, lui più tutti gli altri, quindi veramente un applauso a tutti per questo, siamo tutti sul pezzo, vogliamo fare un grande giro di ritorno. La Ravenna sarà partita in trasferta, partita sempre tosta, dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato questa partita, abbiamo solo due giorni per recuperare, però è per tutti, quindi dobbiamo andare là per far punti, perché dobbiamo continuare a sperare.